Bene, allora ritorniamo alla domanda che c'eravamo posta nella lezione precedente. Che cosa succede quando F non è costante? Bene, quando F non è costante il problema dovrebbe essere approcciato nel seguente modo. Ricordiamo che siamo sempre in una dimensione. Allora, la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, però noi sappiamo anche che l'accelerazione è la derivata della velocità fatta rispetto al tempo. Dopodiché noi sappiamo che la velocità è la derivata dello spazio fatta rispetto al tempo. Allora, questa espressione qui si scrive in matematica in questo modo. derivata seconda dello spazio fatta rispetto al tempo due volte. Cioè, in altre parole, l'accelerazione si vede anche come la derivata seconda dello spazio fatta rispetto al tempo due volte. Di conseguenza, per determinare l'equazione del moto x uguale a x di t, uno deve considerare la seguente equazione, che è l'equazione fondamentale della dinamica, mettere la condizione iniziale, cioè che la posizione all'istante 0 vale x con 0, e che la velocità all'istante 0 è uguale a v0. Dopodiché risolvere questo sistema e ottenere x uguale a x di t. Quindi, se volete, questo è lo schema fondamentale della dinamica. Io conosco la forza, risolvo questa equazione qui, ho le condizioni iniziali, e quindi ottengo che x è uguale a x di t, l'equazione del moto. Ora, attenzione, questa equazione si chiama equazione differenziale del secondo ordine, va bene? Ed è il secondo ordine perché c'è il 2, ed è un'equazione differenziale perché vedete che l'incognita x non è come nelle equazioni che state studiando in matematica, ma è una derivata, ci compare la derivata dell'incognita, ed è per questo che si chiama equazione differenziale del secondo ordine. L'intero sistema si chiama problema di Cauchy. Problema di Cauchy. Allora, noi risolveremo problemi di questo tipo, soprattutto in quinta, eccetera. Tuttavia, prossimamente farò vedere un esercizio, visto che comunque le derivate di polinomi le sappiamo fare, eccetera, per ottenere, diciamo, l'equazione x uguale a x di t da un'espressione generale di questo tipo. Però vi ricordo che i problemi che affronteremo richiederanno sempre f uguale a costante e quindi non utilizzeremo, diciamo, equazioni differenziali o cose complicate. Un'ultima osservazione che voglio fare, che dovrebbe essere l'osservazione g, è la seguente. Ricordiamoci che il secondo principio della dinamica è un'equazione vettoriale. Naturalmente noi togliamo i vettori nel caso in cui il punto materiale si muove su una retta. Ma che cosa succede al caso in cui il punto materiale si muove lungo il piano, secondo una curva che ho indicato con gamma? Beh, dobbiamo utilizzare il secondo principio della dinamica in forma vettoriale. Ricordiamo però che una volta introdotti gli assi coordinati, noi possiamo scrivere che la forza secondo x è uguale alla massa per l'accelerazione secondo x e che la forza secondo y è uguale alla massa per l'accelerazione secondo y e quindi trasformare un'equazione vettoriale in due equazioni per così dire scalare. Allora, per quanto riguarda le lezioni di questa settimana io mi fermerei qui. Naturalmente voi dovete vedere queste lezioni, dovete cercare di scrivere gli appunti in modo da avere il vostro quaderno completo. Per questa settimana non vi do nuovi esercizi perché avete già gli esercizi sul moto di caduta di un grave. Nella prossima settimana invece affronteremo alcune tipologie specifiche di forze e inizieremo a studiare problemi di dinamica. Quindi problemi in cui applichiamo sostanzialmente la legge F uguale a MA quindi forza uguale a massa per l'accelerazione.